Oggi in piazza Bartolomeo Romano, nel municipio Ottavo di Rova, dove residenti e commercianti attennono da anni la realizzazione di una rotatoria, vero Marco? Sì, dal 2015 che è stata approvata, siamo nel 2022 e la rotatoria non c'è. E dunque noi abbiamo inviato anche a suo tempo una nota al presidente del municipio Ottavo per avere risposte in merito alla realizzazione di questa rotatoria. E lui ci ha risposto che il progetto è stato finanziato per l'annualità 2021. Siamo nel 2022, risposte ancora non ce ne sono. Presidente, giunta del municipio Ottavo, dateci risposte.